Il risultato finale della precedente lezione è stata una espressione del resto della formula di Taylor, espressione che va sotto il nome di resto secondo Lagrange, e da questa espressione del resto ci proponiamo di trarre delle conseguenze di tipo quantitativo, cioè ci proponiamo di concludere, che almeno in certi casi, la successione dei polinomi di Taylor, dunque la serie di Taylor, per certi x distinti dal punto x con 0, converge alla funzione f di x che l'ha generata, cioè speriamo di poter dedurre da questa forma particolare del resto la cosiddetta sviluppabilità della funzione f in un assegnato punto x. Dunque, innanzitutto ripassiamo questo resto secondo Lagrange, lo leggiamo via monitor, poi lo scriveremo anche sul nostro foglio, abbiamo una funzione definita in un certo intervallo, supponiamo che sia n più 1 volte derivabile sul medesimo intervallo, abbiamo un punto x con 0 che è il punto iniziale, il punto di appoggio, diciamo così. Allora, per ogni altro punto x dell'intervallo si può trovare un punto xi che è interno all'intervallo che ha per estremi x con 0x, il quale ci consente di scrivere rn, cioè la differenza f meno tn, in questa forma, la derivata n più 1 esima della f calcolata in questo punto, xi, diviso il fattoriale di n più 1, tutto moltiplicato x meno x con 0 elevato alla n più 1. Dunque, adesso lo ricopiamo così diligentemente qui sul nostro foglio, dunque rn di x, si scrive così, abbiamo detto la derivata di ordine n più 1, derivata n più 1 esima, diciamo, della f calcolata in questo punto xi opportuno, il nostro teorema afferma l'esistenza di questo punto, diviso per il fattoriale di n più 1, tutto quanto moltiplicato per x meno x con 0, così, elevato alla n più 1. E naturalmente questo punto xi, la cui esistenza è garantita da questo teorema, che peraltro noi non dimostreremo, questo punto xi, dicevo, una volta fissato x, e chiaramente dipende anche da n, quindi non mi aspetto che al variare di n questo punto xi si mantenga fisso, per così dire. Si diceva una volta passata che questo termine ha una qualche somiglianza, diciamo così, col termine che occorrerebbe addizionare al polinomio di Taylor t indice n per avere il polinomio di Taylor t indice n più 1. La somiglianza sta, diciamo, nella struttura di questo termine, ma la differenza consiste in questo, che il termine che io dovrei addizionare a t indice n per avere t indice n più 1 sarebbe formalmente analogo a questo, salvo che la derivata dovrebbe essere calcolata nel punto x con 0 e non in questo punto xi opportuno, compreso fra x con 0 e x. Si diceva anche la volta passata che per n uguale a 0 questo teorema altro non è, se non il teorema del valore medio di Lagrange. Ora, visto che rn, per sua definizione, altro non è che la differenza f di x meno t con n di x, dire che per un assegnato x t con n tende a f quando n tende all'infinito, chiaramente è la stessa cosa, come dire che, diciamo, il limite per n che tende all'infinito di rn di x è uguale a 0, così. Dunque, noi ci proponiamo di dedurre in alcuni casi particolari questo risultato, quindi la sviluppabilità della funzione f nel punto x in serie di Taylor, proprio sfruttando, diciamo, questa forma, questo modo particolare di esprimere rn. Cominciamo, per esempio, dalle funzioni circolari, le funzioni seno e coseno. So se i miei telespettatori ricordano che noi già abbiamo, diciamo così, studiato i polinomi, osservato, diciamo meglio, i polinomi di Taylor, per esempio della funzione seno, di un certo numero di ordini, e osservando questi polinomi che adesso riportiamo qui sul nostro monitor, eccolo qua, qui abbiamo il polinomio, diciamo, t con 1, che al tempo stesso t con 2, semplicemente la retta tangente alla sinusoide nell'origine, poi abbiamo il polinomio t con 3, i polinomi sono sempre quelli, diciamo, in colore più, qui sul mio monitor li vedo in colore verde chiaro, mentre la funzione seno, come ben si riconosce, è quella in colore più chiaro, più spesso giallo chiaro, sullo sfondo, diciamo. Beh, man mano che facciamo scorrere questi polinomi, questo che stiamo mostrando adesso è il t con 3, la cubica, che però al tempo stesso è il t con 4, si vede che questi polinomi sembrano ricopiare, sembrano apparentemente sovrapporsi al grafico della funzione seno, su intervalli sempre più ampi, centrati nell'origine. Qui, per esempio, si ha una buona coincidenza, almeno così apparentemente, su un intervallo che va da, presso a poco, a meno 1.5, a 1.5, se andiamo avanti vediamo che questa buona coincidenza la si ha su un intervallo che va da meno 2 a 2, e se andiamo avanti ancora un passo vediamo che qui questa buona coincidenza si ha su un intervallo che va da meno 3 a 3, circa, naturalmente un discorso da, così, diciamo, da prendere un po'. Se andiamo avanti ancora un passo, ecco che addirittura su un intervallo che va da meno 4 a 4 facciamo fatica a livello grafico a distinguere il polinomio di Taylor dalla sinusoide, queste due curve sono apparentemente sovrapposte, quindi, diciamo, tutto questo ci fa, lascia ben sperare, ci fa pensare che effettivamente le cose vadano nel modo che noi desideriamo, cioè ci fanno sperare che effettivamente la funzione seno sia sviluppabile in serie di Taylor. Addirittura, questo fenomeno di allargamento, diciamo così, dell'intervallo in cui si ha questo fenomeno di coincidenza, questo allargamento dell'intervallo ci fa sperare addirittura che questa sviluppabilità si abbia per ogni x. Torniamo qui sul nostro foglio e vediamo che effettivamente è così. Perché? Ma perché dunque, se io vado a scrivere il resto rn di x relativo alla funzione seno, per esempio, devo scrivere che rn di x, prendiamo come sempre come punto d'appoggio x con 0 uguale a 0, vengo a scrivere che questo rn di x è uguale alla derivata di ordine n più 1 della funzione seno, calcolata in un certo punto xi opportuno, compreso fra 0 e x, diviso il fattoriale di n più 1, tutto quanto moltiplicato per x elevato alla n più 1, così. Prendiamo in valore assoluto questo resto, ora le derivate della funzione seno, lo sappiamo bene come sono fatte, sono o seno o coseno, o meno seno o meno coseno. Dunque quando io le prendo in valore assoluto, diciamo, ho certamente una quantità minore di 1, dunque è presto fatto, questo numeratore è minore o uguale di 1, quindi quando prendo il valore assoluto di questo resto, trovo il valore assoluto di x elevato alla n più 1, diviso il fattoriale di n più 1, ora fra un istante ci occuperemo di questa successione, io dico che questa successione per ogni fissato x tende a 0, non è una novità, diciamo, questa successione con n al posto di n più 1, cioè x alla n diviso n fattoriale, già l'abbiamo incontrata quando abbiamo studiato la serie esponenziale, e abbiamo riconosciuto che, poiché questa serie esponenziale è convergente, anche se ancora non sappiamo a che cosa converge, questo termine, in quanto termine ennesimo di una serie convergente, non può che tendere a 0. Acconteniamo per un momento questo problema, lo riprendiamo tra un minuto, e cerchiamo di trarre la conclusione finale. Dunque, questo rn di x tende a 0 per ogni x fissato e per n che tende a più infinito. Dunque la funzione seno è effettivamente sviluppabile in serie di Taylor, quale che sia x, cioè abbiamo questa uguaglianza, seno x uguale, il polinomio di Taylor l'abbiamo già scritto nella precedente lezione, ci limitiamo a ricordarlo, seno essendo una funzione dispari, compaiono soltanto le potenze dispari della variabile, la serie è così fatta, x, meno x al cubo diviso 3 fattoriale, più x alla quinta diviso 5 fattoriale, eccetera, eccetera, in generale il termine ennesimo è così fatto, e meno 1 elevato alla n, x elevato alla 2n più 1, diviso il fattoriale di 2n più 1, così, più, eccetera. Naturalmente un risultato perfettamente analogo varrà per la funzione coseno, d'altra parte coseno, altro non è che la derivata del seno, quindi come dire, potremmo semplicemente dedurre la serie di Taylor della funzione coseno prendendo la serie di Taylor del seno e come dire, derivando la termine a termine. Il ragionamento precedente non cambia minimamente, perché se io qui scrivo coseno, beh, le derivate della funzione coseno è più nemmeno come le derivate della funzione seno, sono o seno o coseno, o meno seno o meno coseno, quindi quando diciamo, prendo i valori assoluti, mi riporto esattamente al ragionamento che ho già fatto. Scriviamo anche per disteso la serie di Taylor della funzione coseno, quindi avremo che coseno di x, per ogni x si può ottenere come somma della serie 1 meno x quadro diviso 2 fattoriale, così, più x alla quarta diviso 4 fattoriale, eccetera, eccetera, in generale il termine generale, diciamo così, è meno 1 elevato alla n, x elevato ad un esponente pari, 2n, diviso il fattoriale di 2n, così, più, eccetera, eccetera. Torniamo per un momento sul problema della successione, diciamo, x elevato alla n diviso il fattoriale di n. Vediamo di convincerci, diciamo, a fondo, in un certo senso, del fatto che per ogni fissato x questa successione tende a 0. Beh, vediamo un po', dunque, limitiamoci a considerare x positivo. Dunque, se x per avventura fosse compreso fra 0 e 1, beh, qui non c'è problema, perché, dunque, se x è uguale a 1, questa successione diventa 1 diviso n fattoriale, quindi questa successione è monotona decrescente e tende a 0. Se x fosse minore di 1, strettamente, beh, meglio ancora, perché la successione x alla n, non dimentichiamo che quando un numero è minore di 1, le sue successive potenze vanno diminuendo e tendono a 0. Dunque, se x è minore strettamente di 1, beh, meglio ancora, perché a numeratore abbiamo una successione monotona decrescente che tende a 0, a denominatore abbiamo una successione monotona crescente che tende a 0 e dunque, come dire, il numeratore e il denominatore si danno una mano l'un con l'altro, quindi non c'è ombra di dubbio che questa successione è monotona decrescente ed è, come si dice, infinitesima, tende a 0. Vediamo un po' cosa accade quando x è maggiore di 1. Beh, se x è maggiore di 1 non è più vero che la successione a numeratore tende a 0, anzi, la successione a numeratore tende a più infinito, diverge positivamente, e quello denominatore pure. quindi potremmo dire che siamo in presenza di un limite infinito su infinito, ma io dico che il denominatore per ogni fissato x prevale sul numeratore, nel senso che questa successione, come già abbiamo anticipato, tende a 0. Vediamo di, come dire, di mettere in evidenza il legame che intercorre fra il termine di indice n più 1 di questa successione e il termine di indice n, no? in fondo è la stessa cosa che abbiamo fatto quando abbiamo applicato il criterio del rapporto alla serie esponenziale. Ci siamo preoccupati di evidenziare il rapporto fra il termine di indice n più 1, che è quello che qui ho appena scritto, e quello di indice n. Ma questo è presto fatto perché il termine di indice n è x alla n diviso n fattoriale. Chiaramente x alla n più 1 è x per x alla n e il fattoriale di n più 1 è nient'altro che il fattoriale di n moltiplicato per n più 1. Guardate un po' cosa accade. Dunque, il termine di indice n più 1 della mia successione si ottiene dal termine di indice n moltiplicando per questo rapporto x diviso n più 1. Ora, diciamo, cosa posso dire di questo rapporto? Supponiamo sempre che x sia maggiore di 1. Beh, dunque, inizialmente, quanto che so, n è 0, questo rapporto è maggiore di 1, perché se tu c'è x, e si mantiene maggiore di 1 fin tanto che n più 1 è minore di x. Ma, come dire, prima o poi, visto che x sta fermo ed n tende a più infinito, il denominatore supera il numeratore. Quindi, diciamo, per i valori iniziali della mia successione abbiamo che questo fattore è maggiore di 1, quindi il termine n più 1 esimo è più grande del termine n esimo. La successione, come dire, inizia in salita, comincia salendo. Ma, prima o poi, e precisamente quando n più 1 è maggiore di x, che, come dire, per tutti gli n è maggiore di x meno 1, la successione diventa monotona decrescente per l'ottima ragione che per avere il termine x, il termine di indice n più 1, prendo il termine di indice n e lo moltiplico per una quantità che è minore di 1. Dunque, la mia successione, come dire, comincia in salita ma poi da un certo indice poi diventa monotona decrescente. È come si dice definitivamente monotona decrescente. Abbiamo incontrato un'altra di successioni così fatta, se i miei telespettatori ricordano, la successione radice ennesima di n ha un comportamento in qualche modo analogo, cioè parte salendo poi discende. Come faccio a essere certo che questa successione diciamo tende a 0? Poiché da un certo indice in poi è monotona decrescente tende al proprio estremo inferiore che sarà un numero maggiore o uguale a 0. Una successione di numeri positivi converge al proprio monotona decrescente, tende al proprio estremo inferiore e questo estremo inferiore è un numero che è maggiore o uguale a 0. Ma vediamo un po'. Chiamiamo L questo limite, il limite a cui tende questa successione. Ora, se questa tende a L e questa qui è la medesima successione letta al passo dopo dunque anche questa tende a L e questa cosa fa? Beh, questa per ogni x fissato tende a 0. Ah, guarda un po'. Dunque, passando al limite io trovo che L è uguale a 0 per L. Beh, allora L non può essere altro che 0. Dunque questo semplice ragionamento che sfrutta, ripeto, la monotonia della successione almeno da un certo indice in poi ci convince che la successione x alla n diviso il fattoriale di n effettivamente tende a 0 e questa è una buona osservazione che ci servirà ripetutamente anche nel seguito. Dunque, per le funzioni circolari seno e coseno non c'è alcun problema. Queste sono sviluppabili in serie di Taylor o se preferite serie di McLaurin visto che ci appoggiamo nel punto x con 0 uguale a 0 per ogni x reale. Vediamo cosa accade per la funzione esponenziale. Dunque, cosa diventa, cosa mi fornisce r n di x? la forma di Lagrange del resto nel caso della funzione esponenziale ma in un certo senso è ancora più semplice perché le derivate successive della funzione e alla x valgono sistematicamente e alla x e quindi la mia formula fornisce e alla xi xi punto opportuno compreso fra 0 e x diviso il fattoriale di n più 1 tutto moltiplicato per x elevato alla n più 1. Ora, distinguiamo due casi. supponiamo da prima che x sia positivo ecco che sta qui qui c'è 0 dove sta xi? Basta qui in mezzo non so esattamente dove questo xi in realtà dipende da n quindi al variare di n può spostarsi avanti e indietro ma certamente sta qui dentro cosa è qualcosa di più grande di e alla xi? E qualcosa di più grande di e alla xi e alla x quindi questo resto che incidentalmente è positivo quindi posso anche risparmiarvi di prendere il valore assoluto è minore uguale di e alla x diviso n più 1 fattoriale per x alla n più 1 beh, qui abbiamo già terminato le nostre pene perché questa successione è così questa qua è nient'altro che la successione che ho appena finito di studiare questa tende a 0 quale che sia x se poi xi fosse x fosse negativo x stesse qui xi è compreso qui in mezzo quindi è ancora più facile qualcosa di più grande di e alla xi è alla 0 e alla 0 dunque è alla 0 che è 1 dunque qualcosa di più grande di rn quando xi è negativo sarebbe 1 diviso quindi avremo semplicemente x alla n più 1 diviso il fattoriale di n più 1 ancora più facile di prima abbiamo come dire direttamente il termine di indice n più 1 della successione che abbiamo appena riconosciuto essere convergente a 0 dunque la conclusione anche qui è molto semplice la funzione e alla x è sviluppabile in serie di Taylor ecco che a questo punto è veramente giustificata la denominazione di serie esponenziale che noi a suo tempo demmo a quella certa serie e a quel momento in cui demmo quella definizione era una definizione puramente sembrava in qualche modo arbitraria perché mai la serie 1 più x più x quadro diviso diciamo 2 fattoriale più x al cubo diviso 3 fattoriale più eccetera eccetera più x alla n diviso n fattoriale che pure abbiamo riconosciuto essere convergente qualche lezione fa perché mai si deve chiamare serie esponenziale beh adesso capiamo il perché perché la sua somma per ogni fissato per ogni x reale è proprio e elevato alla x e badate questo è molto interessante lo riprenderemo non so se al termine di questa lezione o all'inizio della lezione seguente in particolare questa uguaglianza sussiste per x uguale a 1 dunque abbiamo uno strumento alternativo diciamo per calcolare alla 1 cioè il numero di eulero quindi è 1 più 1 diviso 1 più 1 diviso 2 fattoriale più eccetera eccetera così più 1 diviso n fattoriale e già vedemmo in una delle lezioni passate non stiamo a mostrarlo nuovamente quando facciamo vedere quei diagrammi a barre so se i miei telespettatori ricordano abbiamo evidenziato la sequenza delle somme parziali SN di questa serie e abbiamo visto che questa successione converge rapidissimamente avevamo uno di quei diagrammi a barre in cui sembrava che dopo pochissimi termini le altezze di tutte le barre sembravano tutte alti uguali che ovviamente non è ma la spiegazione già l'ha detti a suo tempo e consiste nel fatto che 1 diviso n fattoriale tenda a 0 in modo estremamente rapido non dimentichiamo che che so 10 fattoriale è circa 3 milioni e 6 11 fattoriale sarà pressa poco 10 volte tanto è qualcosa di vicino a 40 milioni poco meno di 40 milioni quindi il termine che io addiziono ogni volta per passare da una somma parziale alla somma seguente è una quantità che tende rapidissimamente a 0 dunque questa è un'eccellente tecnica per calcolare in modo approssimato il numero E tra l'altro forse nella prossima lezione vedremo come questo modo di calcolare il numero E consente anche di dedurre la irrazionalità di E è un po' una curiosità matematica se vogliamo ma comunque diciamo questo per far vedere quale sia la potenza di questi di questi strumenti dunque il resto secondo Lagrange si rivela vincente diciamo così anche nel caso della serie esponenziale nel caso viceversa della serie logaritmica ricordo di cosa si tratta cioè il logaritmo logaritmo naturale ma preferisco scrivere log perché come dire si legge anche meglio noi troviamo nella lezione passata il polinomio di Taylor della funzione logaritmo quindi anche la serie di Taylor è fatta così a termini alterni x meno x mezzi x quadro mezzi più x al cubo terzi eccetera eccetera il termine generale è fatto così è meno 1 elevato non alla n bensì n meno 1 o n meno 1 o n più 1 è poi la stessa cosa comunque insomma qualcosa che vale 1 quando n dispari e meno 1 quando n pari quindi è del tutto indifferente scrivere n meno 1 n più 1 scriviamo n meno 1 così ecco questa è la serie io ho già scritto uguale qui ho un po' bruciato le tappe sarà vero che è uguale per quali x sarà vero non lo sappiamo ancora certo è vero per x uguale a 0 ma questo non è molto interessante quindi vogliamo diciamo così studiare questo problema mettiamo un punto di domanda sopra visto che ancora non sappiamo se questo è vero o falso non sappiamo per quali x è vero naturalmente la nostra speranza è che sia vero per molti x ma naturalmente questa funzione dunque è definita per x maggiore di meno 1 così a destra di meno 1 quindi abbiamo questa situazione qui c'è la funzione del grafico è fatta così lo ricordo e qui c'è meno 1 quindi certamente diciamo così una cosa che si potrebbe dimostrare che non dimostriamo che l'intervallo di sviluppabilità è sempre un intervallo simmetrico rispetto al punto x con 0 salvo al più gli estremi cosa voglio dire quando si ha sviluppabilità si ha sviluppabilità in un intervallo del tipo diciamo x con 0 meno r x con 0 più r dove i due punti estremi cioè x con 0 meno r x con 0 più r qualche volta sono punti di sviluppabilità qualche volta uno dei due è punto di sviluppabilità l'altro no oppure qualche volta nessuno dei due è punto di sviluppabilità non so se torniamo alla serie geometrica che possiamo pensare come lo sviluppo di 1 diviso 1 meno x se ben ricordate la sviluppabilità si ha nell'intervallo aperto meno 1 a 1 questa volta io dico che la sviluppabilità si ha nell'intervallo aperto a sinistra che va da meno 1 escluso a 1 incluso dunque si arriva fino a 1 quindi anche logaritmo di 2 si può scrivere in questo modo prima di avventurarci diciamo così nello studio del resto studio che come vedremo non si può fare sfruttando il resto secondo la grange il resto secondo la grange è inefficace in questo caso non conduce risultati soddisfacenti occorre trovare un'espressione differente del resto cosa che faremo chiedo al meglio agli spettatori di pazientare un momento ma torniamo un attimo qui sul nostro monitor e vediamo di mostrare un certo numero di polinomi di Taylor della nostra funzione già ne mostramo un paio nella lezione precedente questo è il polinomio di Taylor di primo grado come ben si vede cioè come sempre la funzione più spessa quella in colore più chiaro è la funzione f di x che stiamo studiando in questo caso il logaritmo quella più sottile in colore più verdolino più verdino diciamo è il polinomio di Taylor questo dunque è il polinomio T1 niente di interessante il polinomio T2 la parabola qui si vede che diciamo vicino a 0 abbiamo una buona coincidenza però appena ci allontaniamo le cose come dire vanno male non so se i miei telespettatori riescono a riconoscere a vedere che qui a sinistra dello 0 cioè per voler negativi la parabola osculatrice come la chiamiamo la volta passata il grafico di T2 sta sopra alla funzione quindi T2 è più grande di F che è come dire che il resto è negativo F meno T2 è negativo andiamo avanti vediamo se è vero ancora anche per valori successivi sembra di sì dunque a sinistra qui le cose cominciano a essere molto coincidenti si fa fatica a distinguere il polinomio T3 è quello che sto cercando di evidenziare col cursore qui anche si vede che sia una buona coincidenza ma sia una buona coincidenza fra meno 1 e 1 appena io oltre passo 1 le cose peggiorano rapidamente vediamo se andando avanti le cose migliorano ma sembra di no vediamo qui qui abbiamo cos'è questo sarà il T4 ecco che diciamo nell'intervallo meno 1 e 1 la coincidenza è buona ma appena oltre passo 1 le cose rapidamente direi drasticamente peggiorano anzi sembra quasi che se io mi porto oltre 1 come dire quando passo dal Tn al Tn più 1 le cose non solo non migliorano ma addirittura peggiorano nel senso che ho dei valori che sono più lontani da F di X e mostriamone questo penso sia l'ultimo mostriamone ancora uno ecco che qui anche qui vedo che nell'intervallo da meno 1 e 1 le cose sembrano andare bene ma appena oltre passo 1 le cose non vanno più non vanno più bene ed è proprio così ed è proprio così perché torniamo qui sul nostro sul nostro foglio vediamo come si può ragionare io non so se i miei telespettatori ricordano il modo curioso con cui nella precedente lezione io ho ottenuto il polinomio di Taylor diciamo del logaritmo che cosa ho fatto ho diciamo così considerato la derivata prendiamo un foglio nuovo così abbiamo più più carta ho considerato in realtà sono partito dalla funzione logaritmo di 1 più X ho considerato la sua derivata prima che è 1 diviso 1 più X poi ho detto ma questo 1 diviso 1 più X lo posso pensare come 1 diviso 1 meno meno X non è vietato evidentemente e ho pensato questo come la somma di una serie geometrica la cui ragione è meno X facciamo qualcosa di analogo dunque qui diciamo sembra un po' l'ufficio complicazione cose semplici qui scrivo 1 meno parentesi meno X poi guardate qui scriviamo meno meno X elevato alla N più meno X elevato alla N così a numeratore ho sommato e sottratto la stessa quantità si dirà ma dove vuoi andare a parare guardate è come se fosse fatemi per un istante cambiare simboli come se fosse spezziamo in due e per un istante battezziamo che so con un'altra lettera quello che volete voi R visto che è la ragione di una progressione geometrica se meno X lo battezzo R qui come se avessi 1 meno R alla N diviso 1 meno R qui ricopiamolo tal quale non stiamo a fare questo cambiamento che non ci serve qui avrei meno X elevato alla N quindi diciamo meno 1 elevato alla N per X elevato alla N qui lo torno a scrivere come era prima perché non ho molti vantaggi a fare diversamente ma cosa fa 1 meno R alla N diviso 1 meno R l'abbiamo visto nelle primissime lezioni l'abbiamo ripetuto quando abbiamo studiato la serie geometrica questo si fattorizza subito è 1 più R più R quadro fino a dove? fino a R alla N meno 1 per gli increduli basterebbe fare una verifica a ritroso se io prendo 1 meno R lo moltiplico per questo polinomio in R beh ritrovo quello lì perché si vede che 1 per 1 fa 1 meno R per R alla N meno 1 fa R alla N e tutti gli altri termini che si ottengono a 2 a 2 si cancellano quindi ottengo questo che ripeto però altro non è che 1 meno X più X quadro più eccetera eccetera più diciamo meno 1 elevato alla N meno 1 per X alla N meno 1 più questo affare qua che questo resto meno 1 elevato alla N X alla N diviso 1 più come ho fatto per tornare indietro per tornare alla funzione logaritmo ho preso questa espressione e l'ho integrata visto che questa è la derivata di questa qui quindi se integro questa funzione fra 0 e X devo ritrovare la primitiva di questa funzione che sa nulla per X uguale 0 beh ma la primitiva di questa funzione che sa nulla per X uguale 0 è il logaritmo di 1 più X sarebbe logaritmo di 1 più X più una costante ma questa costante deve essere scelta in modo che la funzione ottenuta sa nulla per X uguale 0 questa già si annulla per X uguale 0 dunque diciamo così se io integro termine a termine questa uguaglianza da 0 a X si dirà già ma la variabile di integrazione la devi chiamare con un altro nome T vabbè benissimo chiamiamola come vogliamo allora se integro termine a termine questo cosa trovo ritrovo quello che già so la primitiva di 1 che nulla nell'origine è X la primitiva di X che nulla nell'origine è X quadro mezzi e così via qui mi torna fuori esattamente come nella lezione passata il polinomio di Taylor meno 1 elevato alla n meno 1 1X alla n diviso n e qui però trovo una cosa nuova trovo che questo è meno 1 elevato alla n l'integrale fra 0 e X di qui si deve cambiare lettera T alla n diviso 1 meno T 1 più T chiedo scusi in DT ma guarda un po' abbiamo trovato come dire una espressione integrale del resto della formula di Taylor la vado a ricopiare per bene in un altro foglio dunque abbiamo trovato che il logaritmo di 1 più X è uguale al proprio polinomio di Taylor che non sto più a ricopiare perché ormai diciamo l'ho scritto tante volte che ci è venuta noia T N più qualcosa che è R N quale espressione ho trovato per questo R N? questa espressione meno 1 elevato alla n integrale fra 0 e X T T alla n diviso 1 più T ora io dico che su questa scrittura di R N è facile leggere ciò che desideriamo dunque ho trovato che R N di X si scrive meno 1 elevato alla n integrale fra 0 e X T alla n diviso 1 più T supponiamo in partenza che che so X sia positivo allora se X è positivo diciamo intanto vedo subito una cosa se X è positivo questo integrale è positivo e quindi leggo che i resti sono alternativamente positivi e negativi questo già l'avevo visto osservando il computer cioè che per X positivo questi polinomi erano come dire uno sopra uno sotto alla curva logaritmica ancora sul monitor compare e anche alle mie spalle l'ultimo calcolato vedete che questo è diciamo così sopra alla curva logaritmica per X è positivo e quello invece precedente era sotto alla curva logaritmica quindi ritroviamo dai nostri calcoli questo fatto vediamo cosa accade se prendo il valore assoluto di Rn di X sempre per X positivo questo è semplicemente l'integrale fra 0 e X di T alla N diviso 1 più T come faccio per aumentare questo integrale? beh, è molto semplice posso per esempio rimpicciolire il denominatore invece di 1 più T scrivo 1 visto che T è positivo quindi questa integrale non supera l'integrale fra 0 e X di T alla N in DT ma qui siamo arrivati al capolinea perché questa integrale vale una primitiva di T alla N è T alla N meno 1 diviso T alla N più 1 diviso N più 1 quindi trovo X alla N più 1 diviso N più 1 non dimentichiamo che X lo supposto minore o uguale a 1 quindi questo si maggiore con 1 diviso N più 1 beh, questo chiaramente per N che tende all'infinito tende a 0 dunque ho dimostrato e non sarebbe difficile vedere che viceversa quando X è maggiore di 1 questo effettivamente non tende a 0 tende all'infinito ma ripeto possiamo anche risparmiarci di fare questa verifica diciamo ci accontentiamo del fatto sperimentale che mostra come appunto la successione dei podinomi di Theo non si comporta bene per così dire quando X è maggiore di 1 per X negativo ma non sarebbe molto difficile nemmeno studiare il caso X negativo guardate potremmo per X negativo questo integrale come dire se io vado a scrivere il resto per X negativo ricopiamo questa espressione dunque Rn di X sarebbe anzi è meno 1 la n integrale fra 0 e X dunque se X è negativo beh questo è un integrale che è fatto come dire a marci indietro a ritroso X è negativo qui c'è meno 1 qui c'è X negativo quindi idro fra 0 e X così all'invietro beh si leggono male questi integrali fatti all'invietro facciamo un cambiamento di variabile questa è T viaggia qui da 0 a X introduciamo la variabile meno T cioè poniamo non so un'altra variabile quel che volete voi S uguale a meno T l'opposto quindi T è questo qui quindi S che è il suo opposto fa il viaggio contrario va da 0 fino a meno X che guardate bene se X è negativo meno X altro non è che il valore assoluto di X quindi con questo cambiamento di variabile cosa succede? dunque questo integrale diventa meno 1 elevato alla n vediamo cosa accade integrale fra 0 e abbiamo detto quando T vale X S che è l'opposto vale meno X S va da qui a qui così ma abbiamo detto l'opposto di X e X è negativo è il valore assoluto di X eccolo qua poi qui avrei T alla n beh T è meno S chiaramente se S è meno T T è meno S quindi avrei meno S alla n quindi meno 1 alla n S alla n beh siamo abbastanza fortunati e qui avrei 1 meno S poi avrei ancora badata al posto del DT avrei meno S un meno lo metto da qualche parte che so adesso potrei scrivere così vabbè scriviamo momentaneamente meno S uguale vediamo un po' dunque qui ho meno 1 alla n per meno 1 alla n beh siamo abbastanza fortunati perché meno 1 alla n per meno 1 alla n fa meno 1 elevato alla 2n che è sempre 1 quindi ma lo posso risparmiare qui ho un meno che esce integrale fra 0 e il modulo di X S alla n diviso 1 meno S la variabile di integrazione potrei anche chiamarla T quindi si vede una cosa interessante dunque S viaggia abbiamo detto qui da 0 al modulo di X che è minore di 1 quindi l'integrando è positivo l'integrale è preso come dire nel verso giusto quindi questo integrale è positivo col meno davanti è negativo ritroviamo quello che si era detto 5 minuti fa quando X è negativo i resti cioè le differenze F meno T sono tutti negativi i polinomi di Taylor per X negativo come dire sono più grandi della funzione logaritmica e qui adesso se io prendo il valore assoluto mi riduco a considerare l'integrale fra 0 e modulo X di quel che volete voi S alla n diviso 1 meno S come faccio anche qui per per maggiorare questa integrale devo prendere devo minorare il denominatore qual è il valore più piccolo che assume il denominatore beh chiaramente il valore più piccolo lo assume quando S assume il valore massimo 1 meno modulo X quindi questo si maggiore con anzi è minore strettamente 1 diviso 1 meno il valore assoluto di X l'integrale fra 0 e il valore assoluto di X di S alla n in S beh questo qui è lo stesso integrale di prima che la variabile si chiami S che la variabile si chiami T non ha alcuna importanza quindi abbiamo già visto che questa integrale tende a 0 conclusione conclusione già annunciata la serie logaritmica converge effettivamente per tutti e diciamo pure soli i valori quindi la scrivo qui ricopio quello che avevo già scritto in buona sostanza logaritmo di 1 più X è uguale a X meno X quadro mezzi più X al cumo terzi più eccetera eccetera meno 1 elevato alla n meno 1 X al n diviso n più eccetera e questo è vero per tutti gli X dell'intervallo aperto a sinistra da 1 da meno 1 escluso a 1 incluso in particolare questo è vero per 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 X uguale a 1 quindi otteniamo una cosa che era stata annunciata ma mai dimostrata che logaritmo di 2 si scrive la famosa serie armonica presa a termini alterni così più eccetera eccetera più meno 1 elevato alla n meno 1 1 su n eccetera eccetera e quindi diciamo che intraveviamo una possibilità per calcolare anche numericamente il logaritmo di 2 per la verità questa serie è vero che questa è una serie qui applicabile il criterio di Leibniz quindi se io mi arresto un termine positivo ho una stima per eccesso se considero un certo numero sommo un certo numero di termini arrestandomi un termine negativo ho una stima per difetto della somma della serie logaritmo di 2 e l'errore che commetto è diciamo non supera come dire il primo termine che io non sommo o per meglio dire il termine immediatamente successivo a quello che non ho preso in considerazione è anche vero però che la successione 1 su n converge a 0 piuttosto lentamente quindi da un punto di vista della come dire della efficienza del computo questa serie armonica termini alterni non è molto felice non è molto vantaggiosa non è molto buona guardate un discorso del tutto simile che non sto a fare in dettaglio anche perché il tempo mi manca in ogni caso è contenuto nel testo di riferimento si potrebbe fare per la funzione arco tangente così è una funzione dispari quindi ci aspettiamo un polinomio di Taylor quindi una serie di Taylor contenente soltanto le potenze dispari ricordo che l'arco tangente si ottiene invertendo la restrizione della tangente all'intervallo aperto meno pi mezzi pi mezzi quindi ha un grafico come a suo tempo vediamo che se qui disegno i due asintoti corrispondenti alle quote meno pi greco mezzi pi greco mezzi abbiamo così l'arco tangente ha un andamento fatto così dicevo anche per l'arco tangente si può fare un gioco simile a quello che abbiamo fatto per il logaritmo cioè fare che cosa cominciare col considerare la sua derivata questa la penso come 1 diviso 1 meno meno x quadro ma questa qui diciamo così la posso pensare come la somma della serie geometrica di ragione meno x quadro che sarà convergente quando questa ragione quindi il modulo di x quadro è minore di 1 che è come dire modulo x minore di 1 quindi almeno per tutti gli x in modulo minore di 1 questo è 1 meno x quadro più x alla quarta meno x alla sesta eccetera eccetera allora come faccio per ottenere lo sviluppo di Taylor dell'arco tangente fattore indietro integro diciamo così o se preferite considero la primitiva per ciascun termine la primitiva nulla nell'origine e allora è chiaro cosa mi viene fuori mi viene x la primitiva di meno x quadro sarà meno x al cubo terzi più x alla quinta quinti eccetera eccetera come vedete bene si vedono si hanno a segno alterni tutte le potenze dispari delle x divise per l'esponente lo ricopiamo qui in un altro foglio in maniera di avere una migliore leggibilità l'arco tangente di x dunque è dato da x meno x al cubo terzi più x alla quinta quinti meno x alla settima settimi eccetera eccetera anzi si potrebbe dimostrare che a differenza di quanto accade per la serie delle derivate questa serie converge anche nei punti meno 1 e 1 diciamo che la serie a secondo membra converga per x uguale a 1 è ovvio perché come sempre abbiamo una serie a cui è applicabile il criterio di Leibniz come ben si vede la successione dei termini presi in valore assoluto è monotona decrescente tende a 0 e quindi vale tutto ciò che il criterio di Leibniz ci garantisce naturalmente questo non ci dice che la somma di questa serie sia proprio quello che noi ci aspettiamo cioè l'arco tangente di 1 ma questo è dimostrabile e ripeto si può fare con una tecnica analoga a quella che abbiamo utilizzato per la serie logaritmica incidentalmente guardate per quando x uguale a 1 e qui abbiamo l'arco tangente di 1 ma che cosa è l'arco tangente di 1 l'arco tangente di 1 è scritto male lo riscrivo arctan 1 quindi l'arctan 1 coincide con la somma di questa serie beh l'arco tangente di 1 cioè l'arco cioè l'angolo la cui tangente è 1 non dimentichiamo mai che quando scriviamo sen x cos x tangente di x arco tangente di x quando scriviamo sen x cos x tangente di x questo x che è un numero reale lo pensiamo sempre come la misura in radianti di un angolo e questo è essenziale perché sussistono questi sviluppi quindi se procediamo a ritroso ci accorgiamo che tutto è basato il gancio cui sta appeso tutte le deduzioni il fatto che la derivata del seno sia il coseno che la derivata del coseno sia meno seno che la derivata della tangente tutte queste deduzioni sono appese per così dire a questo gancio che è il famoso limite notevole sen x diviso x che per x tende a 0 tende a 1 questo è vero naturalmente se x lo penso come alla misura in radianti di un angolo ma non è vero se lo penso come alla misura in gradi quindi è essenziale perché tutti questi discorsi stiano in piedi che noi come sempre si usa a fare in analisi pensiamo alle cose in radianti dicevo l'arco capa tangente 1 è p quarti e quindi uno dice ma che bello dunque abbiamo una serie quindi riscriviamo la p quarti è uguale alla somma della serie 1 meno un terzo più un quinto meno un settimo cioè un po' più una di quelle serie a cui è applicabile il criterio di Leibniz quindi se io sommo un certo numero di termini che so arrivo fino a meno un settimo trovo una stima per difetto di meno p quarti con un errore che è inferiore a un nono cioè il termine successivo se sommassi fino a un nono trovo una stima per eccesso con un errore che è inferiore a un undicesimo e così via dunque che bello ho diciamo una tecnica per stimare per difetto e per eccesso p quarti e dunque pi greco perché è chiaro che se conosco pi quarti conosco anche pi greco trovando delle stime razionali per difetto e per eccesso di pi greco certo ma come per la serie logaritmica scritta per x uguale a 1 anche qui abbiamo questo fatto così un po' sgradevole che il termine ennesimo di questa serie che sarebbe diciamo 1 diviso 2n più 1 così preso in valore assoluto e questo si va certo a 0 ma non va a 0 molto in fretta va a 0 piuttosto lentamente quindi diciamo come strumento per il calcolo numerico questa serie non è molto appropriata si possono come dire inventare degli artifici che nel testo di riferimento sono riportati nella parte di laboratorio per ricondurre diciamo così il calcolo di pi greco la stima diciamo meglio di pi greco al calcolo dell'arco tangente ma non in corrispondenza di valori come pi quarti scusa non come l'arco tangente di 1 o di meno 1 che sarebbe lo stesso quindi valori che sono lontani da 0 al punto iniziale ma riportarlo al calcolo dell'arco tangente in punti vicino a 0 quindi punti in cui questa serie evidentemente converge molto più rapidamente per il fatto che se io questa serie la considero in un punto x vicino a 0 come dire è il numeratore che mi dà una mano è x alla 2n più 1 che tenda a 0 molto rapidamente se x è piccolo in valore assoluto e quindi abbiamo una buona convergenza di questa serie ma questo è un argomento nel cui non abbiamo tempo di occuparci quindi lo lasciamo agli eventuali lettori curiosi che si rivolgeranno al testo di riferimento di riferimento